Bentornati a tutti, camerata, proletari, feccanieri, come dice il buon Alessandro Catto, da Decelso Dirma Channel in questo nuovissimo video. Allora, ho fatto questa scelta. Posso? Posso comunicarvela? Allora, innanzitutto sto registrando da un altro dispositivo. Nello specifico è un computer un po' piccolo, quelli lì, Surface, non so se siete presenti, che ho comprato. D'ora in poi vedrò anche di registrare qualche video da qui. Fatemi sapere la qualità audio e video, se è migliore o se è comunque uguale. Speriamo sia leggermente migliore. Anche perché mi è più comodo poi per caricare i video, non devo usare l'abbonamento di... il mio abbonamento ed è molto meglio. Allora, ho deciso, e ve lo comunico adesso, ho deciso che ogni lunedì vi porterò un tema, attualità o qualche stronzata varia di cui parlare, discorrere assieme e creare vero e puro dibattito. Scorsa settimana vi ho portato alla mia situazione di sentimenti puramente depressiologici. Posso dire depressiologici? Posso dirlo? E oggi invece parleremo delle elezioni in America, che sembra che siano state vinte dal signor Biden, dal signor Biden, il 78enne ormai nonno. Nonno che di cosa buona può costruirsi la bara con i suoi soldi. No, allora, io perché vi voglio parlare di questo argomento? Perché io sono fortemente, fortemente cringiato da questa situazione. Si può dire cringiato? Posso? Da questa situazione imbarazzante che si sta creando e che si crea sempre per avvenimenti in Italia di questo tipo. Cioè, adesso, nell'arco di una settimana, tutti sono diventati esperti della politica statunitense e di quel che è giusto o meno per l'America, di quel che... Cioè, a me, allora, innanzitutto io vi dico subito, non sono assolutamente pro-Trump, non sono neanche quel tipo di persona che viene a dire a Trump non ha causato guerra e cose, perché per chi ha seguito bene anche la vicenda in Iran, gli iraniani, che sono un po' dei folli, hanno in seguito a quella... l'uccisione. Cos'era c'era stato? L'incisione o l'imprigionamento di uno... di un ambasciatore, qualcosa iracheno, iraniano. Allora, gli iraniani avevano lanciato un missile su un aereo civile, c'è poco da ridere, però fa ridere per quanto sia paradossale, sovranaturale la cosa. E comunque lì, fine del discorso, Trump aveva causato indirettamente più di 200 morti, una roba del genere. Quindi dire che le sue cazzate non le ha fatte, non le ha dette, questo non è giusto. Però mi fa ridere, mi fa ridere la gente che mette delle storie trionfanti con la faccia di Biden, che tra l'altro, ragazzi, è una persona più che anonima, a mio avviso, è tutt'altro che un personaggio carismatico, un personaggio che ti può fare otto anni, tra l'altro, di presidenza, perché, ragazzi, 78 anni, c'è da pregare che non muoia prima, però io non penso che venga assolutamente rieletto. È stato presentato un candidato abbastanza scarso, ma la cosa che mi fa ridere, al di là della politica personale, Biden, Trump, a me non me ne frega niente, sinceramente, e facessero i cazzi loro sti americani che mi stanno anche sulle palle. Posso dirlo? Posso dirlo? Posso dirlo? Viva la Cina! Viva la Cina! Viva le dittature! Posso dirlo? Viva le dittature! No, scherziamo, ovviamente noi siamo per la libertà intellettuale di pensiero e di filosofi quali sono. Io mi definisco il filosofo di Corinto, compagno e collega di Lico Giannis. Però, tornando al discorso, cioè, a me fa ridere la gente veramente che magari manco conosce Biden e non conosce neanche il signor Trump e si mette a fare queste storie per unirsi alla massa di pecoroni, ma adesso magari voi i sardi si sentiranno toccati, nulla contro ovviamente i pecoroni, ma non c'entra niente, questa massa di pecoroni che segue un po' l'ideologia comune, secondo la quale meglio, molto meglio Biden di Trump. Ripeto, ancora una persona che non si può giudicare sul nulla, perché ancora non ha lavorato, ancora non ha fatto nulla, e poi non capisco veramente questo interesse assurdo di gente, anche ignorante, ma che purtroppo conosco anche io, che magari seguo su Instagram, so che gente che magari non sa neanche chi sono i ministri nel governo italiano, meno male che non li sanno perché apreti cielo, ma questo è un altro discorso, e poi però lì vedi che mettono queste storie imbarazzanti e cringe e ti fanno riflettere, ti fanno riflettere un po' sulla società attuale. Boh, io lo trovo abbastanza discutibile, io sono sicuro che tutti voi abbiate visto in questi giorni almeno una storia di una persona che conoscete, che ha detto, ah, viva Biden, viva Biden, è finita l'oscenità. Poi ragazzi, ma vi ricordate Trump quando fu eletto? Sembrava dovesse crollare il mondo, invece non è successo nulla di che, anzi, qualche cosa buona l'ha fatta, tante cazzate le ha anche fatte, ma boh, io lontano da me, è come se io adesso mi avessi messo una storia sul profilo Instagram, ah, viva Biden, ma cosa ce ne frega? Ma cosa minchia me ne frega? Ma io sono stato il primo che ho risposto a queste storie, di persone che avevano una certa confidenza, ho detto, ma che cazzo scrivi? E poi queste sono le prime che, cioè, io adesso parlo perché effettivamente ho visto soprattutto ragazze, che io, le ragazze buoniste sono la cosa più insopportabile che conosca, posso dirlo o vengo giubilato? Perché qua tra femminismo, tra animalismo, tra naturalismo, tra roghismo stiamo un attimo impazzendo, quindi veramente dovremmo uscire un po' più pratici nelle cose, meno teorici, meno bufaloni, meno pecoroni, ecco. Facciamo questa sentenza? Posso farla questa sentenza molto stile Seneca? Posso farla? Posso farla? Quanto sembra un dio così, ok? Quindi, niente, questo era l'argomento di oggi, di cui volevo fare appunto questo discorso molto, molto veloce, molto rapido, molto indolore, fatemi sapere qua sotto voi cosa ne pensate, per me, per me queste persone andrebbero radiate dalla società attuale. E Celso vi saluta, noi ci vediamo domani, spero di riuscirvi a portare un video molto bello con un amico in compagnia, al telefonico ovviamente, io sono ancora positivo e perché lui vive in Sardegna, però un bacione a tutti, accademico, vi voglio bene ragazzi, ciao ciao!